Un poeta ha detto in un verso celebre, allediamo le anime nostre e i nostri cuori come la Padre aveva il suo mattino, queste parole di tutto che la mente oggi ha detto a cui io vedo. Questa magnifica, adunata di spiriti diretti, un uomo di eccezioni, per i quali si trovava giustamente nelle gradenze alti nostri. Noi possiamo richiamare, a festa alta, che i destini futuri per l'umanità si appagiano pieni di promesse e che noi potremo raccogliere tra poco i frutti, i frutti. Noi! 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 Noni! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.